Svelati, non credo, non credo. Non c'erano i ragazzini! a stradente c'è la mia nonna c'è la mia nonna, c'è la mia nonna di ragazzini per favore dai su, ci stanno donne ragazzini, ci appoggio la mia nonna soffia l'anarma e me l'ho voluto via davanti a mano, dentro c'è il sole, fintene dai dai dai, dopo, dopo, dopo ma chi siete, da che parte state? chi ti manda? chi ti manda?